In poche parole, il tappeto, più sono i nodi, più il tappeto è a più valore. Diciamo che il tappeto, la sua bellezza è dietro il tappeto, e si riconosce dal dietro. Perché dietro vedi il tipo di nodi. Quindi di chi è la colpa di tutto? Di tutto e di cosa, colpa di cosa. La colpa di tutti questi nodi è nel pettine, perché prima o poi... Prima o poi, inizi tu. Prima o poi, tutti i nodi vengono al pettine. Al pettine. Come si dice in iraniano, buona te che sai? Lucentano. 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 E' un'esercizio.